Sanguina ancora in Messico la ferita dei 43 studenti scomparsi nel 2014. Loro parenti hanno sonoramente protestato davanti all'ambasciata israeliana di Città del Messico per chiedere che un ex investigatore di alto livello, ricercato in relazione al caso, torni da Israele per consegnarsi alla giustizia. Tomás Serón, che aveva diretto l'agenzia investigativa criminale messicana, è accusato di aver manipolato l'indagine su una delle peggiori tragedie dei diritti umani dell'America Latina. Israele sta proteggendo Tomás Serón, che era capo dell'agenzia investigativa colpevole di aver torturato coloro che aveva arrestato per fabbricare la versione ufficiale del caso. Per questo i genitori degli studenti sono venuti a protestare. Si tratta di una richiesta all'ambasciata e al governo di Israele che consenta l'estradizione di Tomás Serón de Lucio in Messico. ha spiegato un membro del comitato dei genitori delle vittime. Il mese scorso una commissione incaricata dall'attuale governo di indagare sulle atrocità ha bollato il caso come un crimine di Stato. è molto bene, è molto grande, è il momento. L'esp Jude è l'attenzione sociale